C'è già Chiara Geloni qui con noi, buongiorno! Buongiorno! Allora, Chiara Geloni, giornalista tosta, caro Flavio, è la direttrice di UDEM, possiamo dire con una spada di Damocle che le pende sulla testa, perché al contrario di tutti quelli che hanno volta Gabbanato, che prima erano ultra bersagnani e ora sono diventati ultra lenziani, lei è rimasta fedele, come dire, leale al leader che l'ha nominata e abbiamo parlato nei giorni scorsi della sua polemica con Marianna Madia, a cui ha rimproverato proprio una certa disinvoltura nei campi fronti. Ma è qui Chiara Geloni, perché in questo clima di retroscena, di lotta continua fra Renzi e Letta, lei ha scritto un libro insieme a Stefano Di Traglia, portavoce di Berzani, Giorni bugiardi, che sta diventando un caso, lo sai? Un cult anche, un cult caso. Un caso cult, perché pubblicato da una casa editrice relativamente piccola, gli editori uniti, è già arrivata la terza ristampa, che nella saggistica è impossibile, sta contendendo la classifica ai giganti. Bene, buongiorno Chiara. Buongiorno, grazie. Ma allora, intanto non è consueto che si scriva un libro di retroscena, come dire, da due dirigenti che hanno occupato un posto ufficiale. Vi siete posti questo problema? Sì, non so, forse Stefano Di Traglia è stato più intraprendente, più coraggioso di me, perché è stato lui a propormi di scrivere insieme questo libro. In effetti noi avevamo, abbiamo e abbiamo scritto nel libro, molte informazioni dirette, che magari alle quali altri colleghi non avevano potuto avere accesso, ma in realtà siamo anche due giornalisti e quindi abbiamo fatto il nostro mestiere, raccontando con un punto di vista dichiarato i fatti come si sono svolti. Poi sai, è vero, ci sono molti retroscena, dettagli, cose interessanti, ma anche chi legge il libro poi ci dice che più delle cose inedite che svegliamo è il racconto che è illuminante. Cioè non è che non si sappia cosa è successo, non è che la gente non abbia letto pubbliche dichiarazioni, interviste, cose dette in tv, ma a rimetterle tutte in fila acquistano probabilmente un senso che fa capire tante cose. Eh, però anche illuminati da retroscena, tanti che, per esempio, io ne citavo uno, ma non chiaro, improvvisamente dopo loro aver ricordato tutte le frasi di Bersani che quasi con uno stentato, come dire, antiretoricità, diceva ma io non mi piace, al governo bisogna sorprendere, c'è una ricazione famosa, non mi piace svelare i piani, improvvisamente loro trovano degli scatoloni con tutti i disegni di legge che Bersani avrebbe messo in atto il primo Consiglio dei Ministri addirittura se avesse vinto. È un momento un po' agrodolce del libro perché partendo da questo punto di vista Bersani è un po' come il Book of Dreams, il libro dei sogni che si potevano realizzare. È così, Chiara? È vero, fuori da questa scena, insomma, ne parlo un po' come di un film, da questa scena dello scatolone, dove in realtà noi cercavamo e poi abbiamo trovato delle lettere inedite di Napolitano, che è un altro inedito del libro, ma insomma troviamo questi… Eh, a questo punto dici, dai, raccontale perché se no… No, le lettere di Napolitano a Bersani, in qualche caso a Bersani solo, in altri casi a Bersani, Monti e Alfano, cioè i leader della maggioranza di allora, che mentiscono assolutamente che il Presidente tramasse o avesse voglia di avere un secondo mandato, ma anzi lui in maniera anche infastidita, con toni molto simili a quelli che poi abbiamo ascoltato nel suo discorso di insediamento, nel suo secondo discorso di insediamento, dice a Bersani toglimi di torno tutta questa pressione perché io resti, perché non esiste, l'Italia non può dare questa idea di impotenza, di non riuscire a sostituire il suo Presidente, che messaggio sarebbe, insomma sono lettere piuttosto diretti dove veramente emerge lo stato dei fatti di allora e anche il carattere del Presidente che conosciamo. Dicevo però, i decreti nello scatolone sono veramente l'idea di quello che sarebbe stata l'Italia giusta, che era lo slogan della campagna elettorale. Oggi, dopo, se invece che avessimo appena attraversato sei mesi, sette mesi di governo di larghe intese, avessimo attraversato sette mesi del governo di cambiamento, magari non avremmo un governo più forte di quello che è adesso, magari avrebbe lo stesso mille difficoltà, ma gli italiani avrebbero avuto una percezione diversa della politica e dell'azione di governo e di che cosa si può fare da Palazzo Chigi. Questa non è una critica Letta, perché naturalmente Letta opera in certe condizioni politiche e noi avremmo voluto operare in altre. La domanda che ti faccio è che un punto, diciamo, anche controverso della storia recente su cui voi intervenite è quello proprio della possibilità del governo del cambiamento. C'è, come sai, una vulgata, una lettura che dice Bersani aveva perso un minuto dopo il voto, aveva perso dopo una campagna elettorale in cui ha sottolotato l'avversario e da quel momento poi si è ostinato testardamente e ha fatto perdere tempo e forse anche qualche opportunità politica nella resistenza dell'argentese. E invece, proprio un punto, entrambe queste due analisi che voi contestate nel vostro libro, sia il fatto che non ci fosse stata la percezione del rischio di perdere, sia, come dire, il fatto che fosse scontato che quel governo non ci fosse. Sì, esattamente, quest'ultima lettura è proprio il nocciolo fondamentale del libro per quanto riguarda la questione della formazione del governo, perché noi pensiamo esattamente il contrario, cioè noi pensiamo che anche con quel risultato elettorale, come pensava Bersani, fosse possibile un esito diverso dalle larghe intese. E purtroppo questa chiave di lettura che tu dicevi non è soltanto una chiave di lettura che oggi viene usata per spiegare quei fatti, ma è stata dal primo minuto la chiave interpretativa della maggior parte dei commentatori, degli osservatori, del mondo politico e anche all'interno del PD ha finito per vincere, per farsi strada. Anche molti di coloro che nelle riunioni che si sono svolte immediatamente dopo il risultato elettorale e in cui il PD ha dato al suo segretario Bersani all'unanimità il mandato per cercare di formare il governo di cambiamento, evidentemente molti di quelli che votavano a favore della proposta del segretario pensavano alle subordinate, pensavano che... Erano ipocriti perché c'è un po' di ipocrisia nella politica. Cioè fallo, provati, scornati e poi noi intanto costruiamo altre soluzioni. Nell'intervista a Bersani che contrapunta il libro c'è anche un passaggio su questo fatto della sottovalutazione. Bersani dice non solo non ho sottovalutato, ma ho visto forse prima di altri un'onda che arrivava. Voi fate anche un'analisi sui sondaggi, cioè sul fatto che i sondaggi non avevano, non so come li definite, l'inganno dei sondaggi. Cioè in quel momento nessun sondaggista aveva fotografato l'avanzata di Grillo? Guarda, noi diciamo addirittura che, a proposito di sondaggi, insomma noi la mattina del 25 febbraio, prima di pranzo, facciamo un'ultima riunione al partito, con gli ultimissimi sondaggi e i sondaggi ci dicono che vinciamo la Camera, il Senato e anche in Lombardia. Quindi questo per dire i sondaggi. Ma in Lombardia largamente, tipo che siamo avanti di 7 punti. Cosa è successo? Detto questo, la questione Grillo negli ultimissimi giorni della campagna elettorale era effettivamente emersa anche sui giornali, anche nel discorso pubblico, ma per tutta la campagna elettorale e la narrazione che è stata imposta dal sistema mediatico è stata una narrazione totalmente diversa, totalmente centrata sui rapporti tra Bersani e Monti, totalmente centrata sulla necessità che Bersani per fare dopo l'accordo con Monti tagliasse fuori, vendola, fa fina, eccetera, eccetera. E questa è stata la campagna elettorale che si è svolta e che è stata raccontata agli italiani. Sicuramente noi potevamo metterci più forza, potevamo essere più efficaci, si può sempre migliorare, ma il sistema raccontava un'altra storia, non raccontava l'onda grillina che montava. Mentre invece le scelte che Bersani aveva fatto nei mesi precedenti alla campagna erano scelte che testimoniano che lui vedeva quest'onda, tant'è vero che le stesse primarie, l'accettare la sfida con Renzi, poi la scelta di ripetere le primarie per scegliere i parlamentari, ma anche altre cose di gestione del partito, come consegnare le nomine RAI alla società civile anziché farle dal partito. Erano tutte scelte che nascevano dalla convinzione che bisognasse dare il messaggio di un partito diverso dagli altri per contrastare il messaggio che i partiti sono tutti uguali, la politica è tutto un identico schifo e i politici non sanno rischiare, non sanno essere generosi, non sono vicini alla gente. Noi abbiamo provato a contrastare questi messaggi con degli atti che purtroppo non sono stati sufficienti a dare la vittoria netta al centrosinistra, ma che certo hanno portato a un risultato importante, perché tra questi tre poli quello di centrosinistra è il primo e infatti è quello che ha la responsabilità del governo, l'ha avuta sempre e ce l'ha tuttora. Altro capitolo che ha un elemento, fra l'altro in qualche modo di attualità, è quello della sfida delle primarie con Renzi. La raccontate molto in retroscena e siete anche molto fuori dalle righe, insomma raccontate che alla vigilia della consultazione il braccio di ferro fu incandescente e non ci fu nulla di esagerato quando voi trovaste letteralmente sui giornali una pagina che invitava gli elettori a registrarsi per andare a votare. Sì, ma anche questo, vedi, non è un retroscena, è un fatto che magari adesso nessuno ricorda più, ma che stava sulle pagine di tutti i giornali principali. No, il retroscena è che voi avete, cioè non uscì, diciamo, con tutta la sua forza sui giornali, tu citi, fra l'altro mi ha fatto piacere, un pezzo di Labbate su pubblico, però non uscì in modo così deflagrante che si è stati vicini a... Le primarie sono state sul punto di saltare, siamo stati sul punto di saltare tutto. Io mi ricordo che lo raccontai anche su un sito che era nato, insomma, un sito, diciamo, della campagna elettorale di Bersani per le primarie che l'aveva messo in piedi Gianni Cuperlo, lo raccontai proprio nell'ultimo giorno quando questa cosa poi il sabato mattina si ricompose grazie a quella cosa che racconta Tommaso Labbate di quell'incontro all'alba tra Gotor, Speranza e due emissari di Renzi, De Siervo e Petrolo. Le primarie sono state sul punto di saltare perché ci fu un assalto alle regole, del tutto inaspettato poi, perché la sera prima c'era stato, mi pare, il confronto televisivo su Rai 1, strette di mano, pacche sulle spalle, grandi toni, diciamo, da statisti, una cosa bella per il PD, un messaggio di grande fair play, unità e capacità di guardare avanti insieme. Poi la mattina dopo abbiamo aperto i giornali, ci siamo trovati una pagina che diceva iscrivetevi tutti perché non vale niente la regola della prescrizione, venite tutti a votare in massa e noi abbiamo tenuto quel giorno che, cioè ma noi avevamo dei segnali di allarme anche sul piano della sicurezza, insomma, no? Che questi gazebo venissero presi d'assalto da persone infuriate perché qualcuno gli aveva detto che poteva votare e in qualche caso è anche successo. Ti avrà fatto sorridere, hai fatto ieri uscito un pezzo sulla stampa che dice che la strategia di Renzi è sempre stata questa, come dire, abbracciare e probabilmente pugnalare i suoi alleati momentanei o i suoi contendenti. Alla luce di questo... Sì, noi nel libro diciamo che lui è sempre in bilico tra lo statista e Giamburrasca. Lo statista e Giamburrasca. È un po' la stessa cosa. Chi vedi? Che pronostico fai sulla sfida fra Letta e Renzi? No, adesso questo è un po' difficile come domanda. Devo fare un altro libro. Non lo so, io sto cercando di capire bene qual è la strategia del nuovo gruppo dirigente perché non mi è molto chiara. Anche qui si procede un po' per strappi. Si nega la volontà di farli e poi si fanno. Anche ieri a un certo punto è sembrato che il PD chiedesse le dimissioni del Ministro dell'Economia. Poi questa cosa è stata di fatto ritratata sul piano della comunicazione. appunto attenuata però insomma su questo non è che si possa procedere per scatti per insomma gettando sassi e nascondendo mani. Non riesco a capire bene la fisionomia di questo nuovo partito quale potrà essere e di conseguenza quale quadro politico potrà sostenere il governo. A Renzi converrebbe far cadere il governo subito senza se e senza ma? Ma non credo che sia in condizione di farlo senza pagare dei prezzi. Del tipo? Dei prezzi elettorali e dei prezzi all'interno del partito. Il governo Letta è stata una scelta del PD che molti elettori del PD hanno capito tra l'altro premiando il PD nelle elezioni amministrative successive. Letta è un dirigente del PD stimato e certo il suo governo come ho detto prima ha dei limiti ma mi sembra difficile che possa essere in dolore un passo per cui appunto il segretario del PD fa cadere questo governo senza se e senza ma? Come dici? Chi ha trovato il titolo giorni bugiardi? Allora Ivano Fossati l'ha trovato il titolo. Il libro ha avuto un titolo provvisorio ti confesso ti rivelo ti faccio questa rivelazione ha avuto un titolo provvisorio che era La grande occasione a lungo poi La grande occasione si sembrava un po' scontato non sapevamo se Molto meglio la proposta Fossati E poi Fossati io sono una grande appassionata di cantautori classici come forse sai e allora così un giorno ci è venuta in mente questa canzone che si intitola Cara Democrazia che tra l'altro insomma che è un testo che veramente sembra perfetto per accompagnare il racconto di quei giorni gli inganni che ci sono stati ah ecco la mettiamo sotto la mettiamo sotto e vai 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 Chiara e poi dice e poi dice in questo verso che si conclude che contiene questa espressione giorni bugiardi il verso dice sono giorni bugiardi la democrazia ritorna a casa che non è tardi e quindi esprime anche una fiducia nel futuro che noi comunque volevamo che accompagnasse questo racconto così amaro perché noi continuiamo a crederci nella sfida del PD e nella democrazia quindi c'è proprio piaciuta e spero che Ivano Fossati non si sia offeso per ora non ci ha querelato nessuna querela per ora no speriamo bene allora grazie a Chiara Geloni il racconto dei giorni bugiardi serve per capire le sfide il presente mentre le agenzie battono nell'incontro Renzi Letta a Palazzo Chigi 10 e 13 evviva si incontrano e Alfano usciranno con i sorrisi Chiara certamente sono due democristiani a presto ciao ciao grazie